Che marce sono? Io ho chiuso prima. Non devi chiudere qua, se chiudi resti lì e quando la imbuchi giusto a sotto passa anche su un filo in cima, ma adesso è uscito quel sasso stupido lì, chi dà il sattello ti stacca proprio il pezzettino, bisogna farlo un po' più in là, un po' stupido qua.